Allora, è partito ma qua no, non è partito, ok, iniziamo subito con preoccupazioni, tu chiamale se vuoi, preoccupazioni, Nayami, che è problema, preoccupazione, angustia, il 16 è preoccupazione, che verrà, Nayami, quando hai un problema, Nayami, Nayami, Kanogio, Kanogio che è lei, Kanogio, Kanogio va, Nanika, Nanika è qualcosa, Nanika, Nayami, che è preoccupazioni, Demo, Haruno Kanogio, lei avrà qualche preoccupazione, tu chiamale se vuoi, preoccupazioni, allora, Seishin Joutai, che parole difficili, Seishin Joutai, dovrebbe essere un problema mentale, Fuante, 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 Fuante invece cos'è? Ante lo so, ma Fuante non lo so, vediamo se c'è, Fuante non lo trovo, quello di, Kanji di Anshin, però non c'è, eh come faccio, non c'è, Fuante non c'è, Fuante non c'è, Fuante non c'è, cerchiamo, Fuante non c'è, il significato lo so, lo so anche leggere, ma se non mi viene in mente il significato, non lo so, insicurezza, insicurezza mentale, Situazione di sicurezza mentale, ma, occori poco un'atteruione, si arrabbia facilmente, occoru, occori poco, che significa che si, è una che si arrabbia facilmente, come un maco che mi picchia sempre, mia mamma mi dice che faccio schifo, Nero, che sembra una barzelletta, e questa è la verità, eh, milione, poi, hmm, ultimi puntini, eh, ultimo, sai chi, ultimamente, Kanojo, Kanojo, no, Egao, è smile, o Minai, non la vedo ultimamente che sorride, oi Massi, buongiorno, oi oi, oi, cos'hai Massi, se i dubbi, se stai studiando i dubbi, chiedi pure che sono qua, il rumore di sottofondo che sentite, è Marco, che si taglia le unghie dei piedi, molto sexy, coibito, coibito, coibito è fidanzato, fidanzato o fidanzata, Marco, innamorato, innamorato, più che fidanzato, un maco, coibito, to, umacu, it, tenai, che significa che non... Buongiorno, Alexan. Uè, Gio, buongiorno, coibito, to, umacu, it, tenai, significa che non va bene con l'innamorato, it, tenai, non so se lo conoscete, quello che faceva, oh mio Dio, non me lo ricordo più, c'era un manga, che ma non mi ricordo più il nome, ah no, me lo ricordo, Crime Freeman, o a Yogo Zai Mas, Marco Santi, che si taglia le unghie, ma non risponde perché ha le cuffie, Marco, ti salutano! Ciao! Ciao! Ciao le cuffie, su non sei. C'era Crime Freeman, che era quello con il tatuato sulla schiena al drago, e l'altro manga che aveva fatto, si chiamava Coibito, che è questo qua, che è innamorato, innamoration, allora, Coibito, Tom, ma qui, tenai, camo, significa che potrebbe essere che sta andando male col fidanzato, si hanno fatto pure un film, hanno fatto pure il film, non lo sapevo, io ero rimasto al... non li conosco purtroppo, ero rimasto al manga, e Crime Freeman, mi sembra che era un assassino, che non mi ricordo se pioveva, o se piangeva, gli usciva il drago tatuato sulla schiena, e sì, ma è della mia epoca, un manga vecchissimo, ce l'ho, ce l'avessi, ma ce l'ho, allora, comunque, vi rileggo tutto, Naomi e preoccupazioni, tu chiamale se vuoi, preoccupazioni, me l'ho fatto partire, sì, l'ho fatto partire, Kanogio, lei, Nanika, Nanika, eh? Massi, Nanika, è più o meno anche la mia, eh, bene, allora dovresti, eh, ma io ero in Giappone, quell'epoca lì, cioè, per me era attuale, non è arrivato dopo, è qualcosa, esatto, qualcosa, Nayami, Demo, Haruk, Nokana, lei, avrà qualche tipo di preoccupazione, avrà qualche tipo di preoccupazione, perché è qualcosa, preoccupazione, però fa schifo, qualche tipo di preoccupazione, questo qua è, eh, Zenshin, no, Zenshin, faceva l'assassino e come copertura produceva ceramiche giapponesi, esatto, è lui, Zenshin, Jotai, Fuante, De, Okoripoku, Nateruione, eh, ha, eh, un, una situazione, eh, instabile, eh, mentale, dovrebbe essere, Zenshin mentale, della mente, e si, si arrabbia facilmente, ultimamente, non la vedo mai che sorride, avrà, potrebbe avere dei problemi, potrebbe che con il suo fidanzato, cioè con il suo innamorato, vada male, ma qui cana estrica andare male, le cose, ok, cangi nuovi sono, Nayami, e poi, Nayami l'abbiamo fatto l'altro giorno, quindi, un nuovo per un par de ball, però, vabbè, mi sa che con la grammatica sono troppo avanti, perché le parole che mi insegna, sono vecchie per me, praticamente, canojo, che finalmente ci impara a dire canojo, cioè care sarebbe, Nayami l'abbiamo segnato, ma lo rissegniamo, poi abbiamo, eh, tutta questa qua, che sarebbero due parole, questo qua, e mente, dovrebbe essere mentale, seishin, dovrebbe essere mentale, però ve lo cerco, o della mente, questo qua, jyotai e situazione, questo qua, okoru, okoru, no, non c'è, sì, okoru è arrabbiarsi, okoru, che diventa okoru il poku, perché è un'altra roba, e gao è sorriso, o smile, e gao, sarebbe, faccia sorridere, faccia ridere, sarebbe faccia sorridere, e poi coibito, che è il kanji di amore, no, non è il kanji di amore, coi è il kanji di, di cuore, questo è il kanji di cuore, scusate, infatti è innamorato, il kanji di amore è diverso, sotto, cambia la parte, no, cambia proprio tutto, no, no, questo qua è quello di innamorato, niente, ho detto una cacata, andiamo avanti, allora, il primo kanji è, na-yami, na-yami, preoccupazioni, problemi, angosce, eccetera, eccetera, però in generale sono preoccupazioni, o problemi, sì, allora, vai, niente, il kanji è solo na-ya, non è vero, c'è anche no, ma-ko, adesso va là a capire, qual è il kanji, si pronuncia anche no, ma non mi fa l'esempio, perché il libro è stronzo, na-ya-mi, 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 prima facciamo un verbo, e preoccuparsi, na-ya-mi, na-ya-mi, preoccupare, preoccuparsi, preoccuparsi, e poi abbiamo na-ya-mi, na-ya-mi e preoccupazioni, na-ya-mi, tu chiamale se vuoi, ah, non ho messo il titolo, non ho messo la persona, preoccupazioni, copia e incolla, molto bene, adesso scriviamo tutta questa roba qua, per uno spazio di bellezza, allora, questa si pronuncia na-ya o no, l'esempio con no non ce lo fa, ma voi sapete che si pronuncia così, preoccupazioni o problemi, però il verbo problemare non esiste, quindi, allora, o problemarsi, qua è na-ya, e anche l'altro è na-ya, perché questo è il verbo, quando trovate con, finisce con la u, di solito il verbo, quando trovate che finisce con la i, è la parola, regola, come al solito, del 99%, perché c'è sempre l'1% del, facciamo come vogliamo, quello che avete studiato, non conta nulla, e poi vi faccio anche care, care, care che è lui, care, care, che è lui, proprio lui, lui, e si pronuncia ca-, o-ca-, no, aspetta ve li faccio, o-cano, allora, care, è lui, non mi scrive, care, comunque, al momento, non ho particolari dubbi, stasera, spero di aver tempo, di ripassare, dovrei avere finito, di pitturare, ok, se hai, però se hai dubbi, non farti problemi, quando sto facendo lezioni, a chiedermi, intanto sono qua, canogio, comunque, domani facciamo gli esercizi, per inizia una lezione, comunque le regole sono solo, impara a contare, i vari suffissi, come si fa la domanda, e la regola del momo, e poi non c'è nient'altro, sembra una lezione lunga, ma c'è poco, c'è poca salziccia, canogio, sono quelli lì, cioè gli irregolari, ma sono le sporcature del nigori, alla fine, quando sai che sono sempre quelli lì, più o meno, a parte che, a tipo maco, lei dice che nansoku è giusto, anch'io sento sempre nansoku, però grammaticamente, si dovrebbe dire nansoku, però i giapponesi, neanche i giapponesi dicono nansoku, dicono nansoku, però noi lo impariamo giusto, invece sono appena svenuto su carlui, sono svenuto su care, in che senso? Care lo sapevi già, te l'ho detto io, care e canogio, che care significa anche, quando dici, watashi no care, significa il mio fidanzato, watashi no canogio, la mia fidanzata, che sarebbe il mio lui, e la mia lei, e canogio invece è lei, perché lei, questo non l'abbiamo ancora fatto, noi dirà, il kanji di Koimito, è forte perché è composto, da due radicali rosso, e cuore per cui, colui che ti fa rossire il cuore, due radicali, no, è cuore e persona, cioè la parte sopra, è rosso e cuore, del primo kanji, però il kanji è cuore e persona, sì, i radicali sono le parti separate, ma care non era solo per le cose, no, quello è core, non ti sbagliare, care è lui, core è questo, questo qua è care, è un'altra cosa, ci siamo capiti a A, sì, sì, ci siamo capiti, e questo, ah, mister, non so se tu lo usi, ho trovato una, cioè mi ha consigliato questo sito qua, che non so se te l'ho dato, gisho.org, me l'ha consigliato il mio amico, che fa le traduzioni, che è veramente fatto bene, sì, non è, le traduzioni sono fatte a culo, però spiega bene le cose, se lo, se lo vuoi usare, sì, lo abbiamo usato due giorni fa, ok, perfetto, non mi ricordo, io non mi ricordo se c'erano, quindi per sicurezza, ah no, ho chiuso il sito, lo riapro, ve l'ho messo nel link, e l'ho chiuso, e vi mette, non solo la spiegazione, ma sotto vi fa gli esempi, in giapponese, naturalmente, prima abbiamo, se scrivi Nayami, tipo, c'era una parte tradotta sbagliata, se mettete il titolo, metteva tipo, mio fratello, ha il problema dell'atleta dei piedi, era sbagliato, hanno introdotto una cosa male, però c'è le frasi in giapponese, vi fa capire bene i significati, anche, vi mette altre parole, che potrebbero, che potete comporre con la stessa parola, cioè, altre parole che potete comporre con la stessa parola, è bello per quelli, però io uso tutte e due, sia il webbligo che quello lì, allora, mi sono riperso, mamma, mi sono perso, canoggio, qua è cano, però il simbolo praticamente sarebbe lui, più lei, che diventa lei, cioè lui e donna, che diventa lei, ok, scriviamo sta roba, e andiamo avanti, tu chiamale se vuoi, preoccupazioni, allora, Naomi, adesso, Toro mi ha buttato giù tutte le penne, non so più qual è la penna che stavo usando, molto bene, c'è anche il filo che mi si incastra, adesso ho quattro penne, e non so più quella che stavo usando, questa non è, questa non è, questa potrebbe, oh cacchio, potrebbero essere qui, e Marco un attimo, sto cercando la penna, è un gatto, ha fatto il suo lavoro, esatto, e però fa casino, Marco non trovo la penna, non è colpa di Toro, è colpa di Marco, sento dalla regia, e quindi viene aiutarmi a trovare la penna, prima che diventa una aliena, eh ma quale, e le hai messe tu, sì ho capito, ma mi dici dov'è la penna che stavo usando per studiare, eh come non lo so, le hai messe a posto tu, però la penna non so dove è, eh sciri ma se, non par de marrona, eh non trovo la penna che stavo usando, eh non sciri ma se, devi dire dov'è prima che ti taglio la testa, eh sciri ma se, non è la matissia, è la matissia, è la matissia, ma adesso come scrivo, con il pisello, intanto ce l'ho a punta, adesso, eh non so qual è Marco, scusa, perché ne ha solo quattro, eh mi ricordo che ne avevo una, una nuova che non c'è, perché queste sono tutte con la punta mangiata, eh non c'è più la penna, eh si rimasta, Marco era nuova, l'ho appena presa con la penna lì, dai, 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 queste qua che ho fatto cadere, ma non c'è, ma non c'è, mai sposare una giapponese, ho capito Marco, Alessandro un par di balle, non c'è, è stata tu, e lo sapevi dov'era, eh, ok, toglimi dalle balle, vedete che questa ha la punta, non è vero, ma Marco non ha la punta manco questa, non è questa la penna che usavo, non ha la punta, no, eh sì, figa, Marco erano quattro le penne lì, c'è una quinta in giro, non è quella, figa, e l'ho cercata, se no non te la chiedono, di te che nascondi le cose, l'ho aperta settimana scorsa, quindi è nuova la penna, doi te, doi te è levati dai marroni, mi hai detto che faccio schifo, beh, cerco di qua, da qualche, ah, guarda dov'è, è stato Torre, guarda, quale è la Torre, l'ha buttata giù Torre, e vedi, questa è la penna, te l'ho detto che era colpa di Torre, ho visto che giocava con le penne, e ieri tu mi hai detto di no, hai capito, mia moglie mi ha detto che faccio schifo, come mia mamma, io ci sono arrivato male, Torre, 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 sono dritto, non lo so, no, su Tecchina Dei, Nayami, allora, unità 3 di 3, unit, 3 di 3, Kanji, eh sì, lui sì, N2, Nayami, preoccupazioni, un po' Suto Ruto, Suto Ruto, esatto, vedi che sei il giapponese, questo denomina che sta imparando il giapponese, Suto Ruto, c'era la mia collega che mi diceva sempre che era un pochino Suto Ronzo, Nayami, la devo chiamare, tu l'hai sentita più, come che si chiamava? Shio? Eh, è da un po' che non la sento, eh, Nayami, Kanogio, Nanika, Nayami, Kanogio, Kanogio è lei, Kanogio, che questo Kanogio lo so a memoria, adesso me lo spiega, mille volte me l'ha fatto scrivere, adesso me lo spiega, vabbè, Nanika, Nayami, uno d'altro, ah ti chiami un po' Oronzo, solo di cognome, Oronzo, esatto, no, Nayami ha quattro segni sotto, sopra è la X, Nayami, Demo, Arunokana, Arunokana, questo qua è una domanda un po', ma non è che lei avrà qualcosa che la preoccupa, ah? Sen shin jo tai fuante de, de è il des tagliato, ve lo ricordate la frase che continua, des e poi un'altra frase, però fa de tagliato, e va avanti, anche quello ve l'ho spiegato, sen shin, sen shin, tutte cose, le cose che, base, le trovate anche più avanti, per quello vi ho detto, se fate bene le basi, poi io tipo adesso non è che mi sono messo a tradurla, lo so e basta, è così, però se non sapete le basi, non potete tradurre neanche le cose più, cioè, quelle facili, neanche quelle difficili, perché se non hai le basi, magari sai anche tutte le parole del giapponese, però qua come facevi a capire che questo qua era una domanda, che questo qua è il des, questo qua poi questo kamo, è kamo shiremasen, che non lo scrive, però dovrebbe essere kamo shiremasen, che potrebbe, sono tutte cose che le fai con le basi, allora, canoggio, cioè ciao, questo è jo tai, jo tai, jo tai, quante fu, quante, quante, quante l'ho fatto prima, già non me lo ricordo, non me lo ricordo più cosa ho tradotto, instabile, de, virgola, occorri poco, occorru è arrabbiarsi, inizio ad intuire qualcosa anche di quello che fai tu, quindi sono soddisfatto, eh sì, ma è quello piano piano capirai sempre di più, è quello lì lo scopo, occorri poco, ecco, sì, no, è massi, non è sempre, dice che pian piano capisce sempre di più quello, e come facevo io, io tipo guardavo, io guardavo sempre, non so se lo conosci, The Beautiful Dreamer, il film di Urusei Azzura, l'avrò guardato tipo mille volte, perché mentre studiavo il giapponese, mano a mano imparavo, cioè notavo che conoscevo sempre più cose, poi adesso invece quando non capisco qualcosa, chiedo a mia moglie, lei mi dice, non lo so ne anch'io, ti ha scritto, Arigato gozaimasu, Mako san, Ye 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 ma shi shang, Allora, occorri poco, è una che si arrabbia facilmente, un si, è la ciabattona, è vero, c'è ragione, sono qua putta di piedi, aspettate che ho, mi tiro anche sullo schienale, che mi viene la gobba, ok, adesso sono seduto in posizione dritta, tutto è, però aspetta, ho sporso la telecamera, che faccio prima, che poi continuo a tirare indietro il libro, ok, Saekin ultimamente, Saekin, Saekin, che ultimo monte, Kanojo, che sarebbe lui più, lui più donna, Kanojo, poi io ve lo ripeto sempre, fate sempre questo giochino mentale, che sto facendo io, tipo Kare più Onna, Kanojo, e fate singolarmente il kanji, per capire, il significato, anche perché molte volte, io riesco a scriverlo, e non so il significato, perché so i kanji, questo qua è faccia sorridente, che però si dice Egao, che significa Smile, Minai, Minai sarebbe il verbo vedere, però in forma negativa, Ne è il tipo l'esortativo, ultimamente, non la vedo mai sorridere, vero, o sarebbe il nostro, Ne è milanese, Ne è, Coibito, Tu, Umaku, Te, Nae, Camo, Coibito è, Amo, Amo, Innamorato, Coibito è proprio, Innamoration, Coibito, e c'è anche il famoso, com'è che si chiamano, no, Coibito è fidanzati, sì, ma per noi è innamorato, per distinguerlo da Kare, esce Canojo, se no non, com'è che si chiamava, Shiroi Coibito, il famoso dolce giapponese, sarebbe l'innamorato bianco, o gli innamorati bianchi, dipende da come mi piace di più, i Te, Nae, significa non va, non andare bene, cioè non andare, i Te, Nae, è proprio il verbo andare, però, Umaku è bene, non va bene, no, Camo, e questo Camo è, sarebbe Camo Shirenai, che potrebbe essere, non so se è moci, ma con i Shiroi Coibito sono moci? No, sono tipo dei biscotti al cioccolato, una roba del genere, Shiroi Coibito, che avevano, era successo anche un casino, che gli avevano denunciati, una roba del genere, ma un sacco di anni fa, però sono famosi, se scrivete Shiroi Coibito, escono sicuramente, allora, questo qua si pronuncia Naia, che sarebbe militare in italiano, no, ma con, no cos'è? No cos'è? Cervello? Infatti, questo qua, aggiungiamo no, ma è questo kanji qua? Questo è il kanji di cervello, Naiami è il kanji di cervello, siamo sicuri? Sì, ok. Perché sta usando il cervello. No, però non mi esce, ma non è questo, ma è diverso, è diverso, non è questo? Sei sicuro? Non è che mi hai convinto, ma non è questo, quello di cervello? Io mi ricordo che è questo, non questo. Questo no di che cosa? parlando con Naia militare in italiano. Esatto, Naia militare in italiano. Sì. No miso, te書ite mi? No miso. Vedi che è quello? Questo no, che cosa significa? Non è cervello? Cerchiamo questo no un secondo. No te o manai, esce no? No, sì, no, me l'ha scritto il libro, che si scrive così. Vai che il libro ha. Adesso lo cerchiamo e vediamo. Allora, Naia, 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 come no, non esce niente. Naia, 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 no ran, no ran esce, no satsu e no ran. No ran è sempre preoccupazioni. No ran è sempre preoccupazioni. Boh, mai sentito neanche io, non ho mai usato, va bene. Ma che non mi sono no, è diverso, c'è davanti i mesi. Non mi sono no, mi sono divanti i mesi. Ok. Va bene. Va bene. Diventate più interessante, Marco. Allora, no, e va bene, Naia, naiamo è preoccuparsi o avere problemi. O avere preoccupati, cioè problemi, cioè problemi, però non usatelo come problemi, perché problemi è shinpai, perché poi vi confondete. Meglio se usate preoccupazioni in questo caso. E poi non prendo in giro il militare, sono l'unico stronzo che l'ha fatto il militare. Quando ho fatto il militare io l'anno dopo l'hanno tolto. Naiamo, pensa a te che sfiga che ho avuto. Cioè non era più obbligatorio. E Naiami. Ho fatto proprio l'ultimo anno, dopodiché basta, non era più obbligatorio. Naiami. che non li scrivi significati, li so. Poi Care Canojo, Care 2. Care Okano. Care lui. Care. Invece Canojo è lo stesso kanji più quello di donna, con la gonna, donna lo sapete, onna. E diventa Canojo. Canojo. E onna diventa Joe. Però quello piano piano, non imparate già i significati diversi, se no diventate pazzi. però piano piano, mano a mano che si trovano, ve li memorizzate. 3. 6. 6 e vitalità. La vita, potevo scriverlo, era un kanji solo. 6. E non è questo, non è questo, non è questo, non è questo e questo. No. E un altro 6. Vabbè, faccio prima a scriverlo tutto intero. Questo. 6. 6. No, era quello. 6 che significa vitalità. Na 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 na. vitalità. Seishin. Seishin dovrebbe essere mente, mentalmente, lo controllo di nuovo. Ma, seishin è mentalmente? Seishin. Mente, spirito, sol, cuore, ecco, deciditi, quale di queste? Mi ha scritto mente, spirito, anima, cuore, tutti praticamente. Mi mette anche senshin teki e mentale. Sì. Eh, ma scusa, senshin ne basta? Eh? Senshin fuante. Senshin, no? Eh, mente, spirito, cuore, e tutto già praticamente. Senshin o in mente da ne? Eh, mente. Ah. Senshin, mente. ok, perché questo qua dovrebbe essere quello di Kami. Sì, sono deboli di Sessi. Kami, eh, sì, e il primo è Vitalità, giusto? Sei e basta, vabbè, andiamo avanti, se no diventiamo pazzi. Quattro. Abbiamo quello di Joe Tai, dovrebbe essere, sì. Joe Tai. Questo qua si pronuncia Joe. Tonarino, totto, rotto, che è stato, vabbè, condizione. Joe e basta si pronuncia. Allora, Joe Tai, questo qua è quello che trovate di più. Joe Tai, che è stato o condizione? Non stato nazione, non è stato inteso come... Poi, Joe Tai e situazione. Joe Tai. Joe Tai. Joe Tai. Joe Tai. Joe Tai. Joe Tai. Situazione. Situazione. Poi abbiamo, magari tiro su, poi abbiamo Genjo. Ah, Genjo sarebbe Genzai, che è presente, più Joe. quindi stato attuale, dovrebbe essere. Corrente condizione, sì. Genjo. Genjo, stato attuale o presente, dove volete voi. Poi, Joe Tai, Joe. Ah, Joe Tai, Joe. Scusa, Shou Tai, Joe è l'invito. E la, come si chiama? La cartolina d'invito, come si dice? Biglietto d'invito? Carta d'invito, come si dice? Show Tai, Joe. Biglietto d'invito. Dice carta d'invito, allora. D'invito, ok. Poi abbiamo, Icaro e arrabbiarsi. 5, Icaro, che arrabbiarsi. E si dice Ica o Oco? Icaro, Icaro è il verbo arrabbiarsi. Icaro, che però come fai a riconoscere quando Icaro e Ocorro? È scritto uguale. Per me si può scrivere in tutti i due. Arrabbiarsi, però quando lo vedi non riesci a riconoscere quale è uno e quale è uno. No, Ocorro, c'è Ru, e Icaro, c'è Ru. E come fai a capire quale è dei due? E lo puoi leggere in tutti e due modi, che non è sbagliato. Che lo leggete Icaro e Ocorro è la stessa cosa. Questo è rabbia. Adesso sto scrivendo Ocorro, se vedete è scritto identico. Quindi lo potete pronunciare in tutti e due modi. Tipo qua in alto, però Icaro poi, questo qua Canoggio, Icaro e Icaro con Atterio fa schifo. Ocorro è poco. Ocorro è poco, si sente di più. Allora, siamo fermi a chi? Scusate, non è nato un'amigata di due, No, più che altro, di solito vedi la differenza dopo il kanji, ma è identico, quindi... Come solito, usate la tecnica che usano i giapponesi, suona bene, allora lo dico così. Però poi il problema è che magari per te suona bene in un modo e per loro suona bene in un altro. ma è sempre finire di merda. Jotai è stato a condizione, poi abbiamo Jokyo e Situation. A Situation poi abbiamo Genjo, che è stato attuale, questo qua è quello di Genzai, presente. Poi abbiamo Shotai Jo, è invitare, e Shotai Jo è invito. il biglietto in invito. Questo qua è Ika Ooko, questo è Ikaru, però lo puoi anche leggere Okoru, perché è identico. In base al sentimento, lo leggete come volete voi. Come volete voi. Ikari, Okoru, Ok, Save, e andiamo avanti. 3, c'è bloccata la live? No, sta andando. Allora, Seishin, Non so cosa vuoi fare, in che senso? Ma la mia è la tua? Mi dispiace, ho rovinato un cappello amaco, adesso mi picchierà. L'ho chiuso dentro una cerniera, cioè non so come ho chiuso la cerniera, perché quando ho guardato dentro, c'era incastrato dentro il cappello. Adesso un bacco mi picchia. Un bacco mi picchia. La mamma mi ha detto che faccio schifo. Proprio una bella settimana. E di tutto per andare a Varese. Non andavo a Varese, stavo bene, e nessuno mi odiava. Allora, questo qua è quello di Seishin che sarebbe Seishin Mente, Zmind. Ci stai? Ah no, è niente, è uscito non ho scritto. Seishin. Poi on Joe. Joe o Banana Joe per gli amici. Joe o Banana Joe. Io più brutto che abbiamo fatto la mia vita. Salute. Salute. Mako vai in garage che mi attacchi le malattie. Grazie. Eh non lo so. Eh ho capito. Ti arrabbi con me. E mica l'ho fatto apposta. Anzi, non so neanche se sono stato io o no, perché io l'avevo in mano e qualcuno l'ha chiuso. Quindi non è neanche colpa mia. Magari la zia l'ha chiuso dentro. Quando l'ha messo dentro. Gio Tà I I don't know. Gio 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 Situazione Gio Situazione Non lo so Mako Genzai Più che mi dispiace non so cosa dire Gomennazai Genzio Genzio Stato E Mako Non lo ha fatto E' apposta Cioè io ti dico che sono stato io ma magari non sono stato neanche io perché mi ricordo che la zia l'ha messo dentro ha chiuso e poi ho guardato c'era il coso ho provato a aprire ho detto Mako guarda che si è incastrato però ce l'avevo in mano io quindi è colpa mia va bene però Dekiru Koto Nanimo Dekinai Cioè posso romperlo se vuoi però ti rompo il cappello Shotai Questo qua L'ho scritto giusto Shotai Sì è giusto Quello di Mazzu aspettare Shotai Gio No non è Gio Tai Shotai Gio Biglietto Allora cinque Ikaru che è maco adesso che è arrabbiata e poi mi picchia Ikaru Notare che nel kanji di arrabbiarsi c'è dentro quello di donna chissà come mai Ikaru Ika o Oko Ikaru Ikaru Anche quello di confusione se non sbaglio sono tre donne Eh confusione com'è che si diceva? Confusione cos'era confusione? Non mi ricordo più Non me lo ricordo Non me lo ricordo Mako con calma Con calma ma Stelgar non ha aperto i due giorni Eh ho capito però non è che ando a dire Doshio Doshio risolviamo Devo cercare Eh sì non mi viene in mente neanche me Okori Okori cioè Okorus facciamo prima e poi facciamo Ikari 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 che non mi viene in mente i tre kanji di donna mi sembra strano cioè non mi viene in mente adesso poi magari hai ragione tu però adesso non mi viene in mente Ikari Ikari che sempre arrabbiarsi andiamo avanti 6 6 abbiamo Warau no 6 abbiamo sì Warau che è ridere Ridi ridi che la mamma ha fatto gnocchi Warau che è ridere questo qua si pronuncia Wara o E Warau è ridere poi io dico sempre non sto ridendo sto sorridendo Warau warau è ridere ridere poi abbiamo Egao che l'abbiamo fatto prima faccia sorridente o smile Egao sorriso poi abbiamo 7 abbiamo Koi Koi che è amore this is love Koi inteso amore proprio amore love this is love that I feelin' this is love Ren o si pronuncia Koi o Ren Koi è amore Koi Koishi Koishi non ho mai usato in vita mia Koishi Mako Wakata Oruse Eh ho capito ma non è che se lo ripeti all'infinito cambia qualcosa nostalgico o beloved cosa significa non lo so beloved non lo so neanche in inglese Alleluia almeno non ripeti la stessa parola all'infinito figa hai fatto venire mal di te Cosa significa beloved ah che ti manca non che ti manca come è che si dice in italiano figa si che ti manca ma non mi viene in mente la parola in italiano mi manchi come si dice mi manchi boh che ti manca scrivo ma compianto non mi piace quella parola cioè nel senso nostalgico nostalgico nostalgia nostalgico o o mi manchi scrivo cioè nel senso compianto è giusto però non l'ho mai usato in vita mia coibito e innamorato coibito innamorato e innamorati amante no e quando nel senso una persona ti lascia e tu pensi sempre a lei però non mi viene in mente come si dice in italiano devo chiederlo a com'è che si chiama poi chi è che cantava mi manchi mi manchi coibito chi è che mi compra il coso per l'hard disk ma mi compri l'hard disk per la play visto che ho speso i miei soldi per il frigorifero e la lavatrice coibito e innamorati o ho innamorato innamoration poi abbiamo shizuren shizuren è avere il cuore il cuore spezzato questo non è ah shi allora questo qua è quello di shippai questo qua il kanji di shippai che è cioè sbagliare o fallire questo qua è amore quindi amore fallito è shizuren è avere il cuore spezzato questo non me lo ricordavo shizuren heartbreaker avere il cuore in front no spezzato mi manchi mi manchi ci sei riuscita? si l'hai rotto? no e quindi? sono contento che sei contento quindi non mi dici più che faccio schifo è sempre colpa mia tienimelo in mano fai questo fai quello e poi è colpa mia vedi aiutare le persone alla fine tutti se la prendono sempre con me che sono buono e bello anche mia mamma mi ha detto che faccio schifo e poi gli ho detto col cazzo che la prossima volta ti vengo a trovare visto che faccio schifo e adesso stamattina l'ho chiamato e fa no non ti ho detto che fai schifo no mi hai detto proprio che faccio schifo non è che mi hai detto che faccio schifo fai schifo fai schifo che cazzo sono venuto a fare i safari per farmi insultare stavo a casa mia Shih Tzu Ren e ho capito che pensi così ma io la notte ogni volta che mi addormento vedo mia mamma che mi dice fai schifo certo che l'ha detto ma non è che sto scherzando è quello il problema allora nikumu è odiare nikui nikui 8 cioè impariamo da amore a odio ah no manca prima ai abbiamo fatto 8 facciamo ai così finiamo il ai questo qua incontrare incontrare poi c'è amore ai si pronuncia ai e basta ed è amore e poi ai suru è il verbo amare però non vi scrivo amare o amore amare o amare se mettete suru non ve lo scrivo perché se no devo scrivere suru per tutte le parole che esistono in Giappone per dire aijo è affetto aijou no l'ho scritto due volte ai jo affetto o affettato per gli amici affetto e poi abbiamo ren hai che ren hai è vedete che è quello di prima koi ren hai ren hai è essere non innamorato avere una storia d'amore com'è che si dice ren hai avere un un filo amoroso maco aiutami con l'italiano avere una relazione no essere innamorato avere una relazione romantica avere una relazione amorosa o romantica come io ce l'ho io ho ren hai col mio gatto praticamente io e torah ci vogliamo tante benelissimo e quando va via maco ci mettiamo la lingua in bocca ren hai ok andiamo avanti c6 e warau warau è ridere ridi ridi warau 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 è ridere warau guarda che tutti questi cangi li conosco però warau warau e egao egao è ridere più faccia egao sarebbe faccia che ride significa sorridere o egao egao e poi abbiamo 7 koi koi che significa avvenire in questo caso koi che significa amore this is love that I feel this is the love koi o ren allora koi abbiamo detto amore this is love poi abbiamo koi shi che è la prima volta che lo sento in vita mia cioè nel senso non l'ho mai usato koi shi io questo qua sicuramente l'ho tradotto tutte le volte che lo vedevo lo traducevo aishi perché sono stronzo koi shi è sbagliato koi shi che è nostalgico o nostalgico o malinconico non è malinconico come si dice vabbè mi manchi scrivo mi manchi mi manchi mi manchi non so di bene ma perché ma mi manchi coibito coibito di quella là è innamorato di quella là di quella là di quella là 2N e 1M 2N e 1M allora è giusto dovrebbe essere innamorato pazzo forse era innamorato pazzo di Celentano ho tirato fuori anche una canzone del film di Celentano lol allora Shitsuren è avere il cuore spezzato is breaking anzi adesso vedo se trovo qualche film me lo riguardo mi sembra che innamorato pazzo c'era no non era innamorato pazzo è il barbiere di Siviglia credo è il barbiere di Siviglia non era vabbè sono un po' confuso no innamorato pazzo no non era innamorato sì sì boh no non mi ricordo mi sembra che l'ultimo film che ho visto di Celentano ultimamente era quello lì segni particolari bellissimo che all'inizio c'è sto male l'inizio è top top ma la roba archeologica che a me fa sempre io lo guardo adesso e rido come quello ridevo all'epoca all'epoca quelli erano film belli anche l'ultimo cioè quello che mi è piaciuto uno di quelli che mi è piaciuto di più era quello con che ha fatto la parte piccola che era un film spezzato in due mi sembra con quello lì con l'altro che odiavo a morte che era montesano mi sembra e faceva il poliziotto e c'era la tipa che lavorava nei film dell'orrore e se si sedeva sul cesso c'era il serpente che le doveva mordere la patata mi ricordo che c'era una scena che impennava un'auto al parco di Monza sì quella lì è la patata in cui si chiama segni particolari bellissimo che c'è il tipo con le macchioline che lui va con la moto in penna e lui fa quella è facile c'ha due ruote in penna questa top va basta non finisco se parliamo di c'è l'interno possiamo andare avanti i mesi Shih Tzu Ren allora il cuore spezzato comunque io se li guardo adesso rido ancora come ridevo prima è più nemmeno 8 Ai Ai quando ti fai male dici ai che significa amore this is love that I feel this is the love Ai amore Ai Suru è amare invece Ai Jo è affetto affetto per Jo Ai Jo Ai Jo però Ai Jo anche scritto in scritto in un altro modo è anche cancellare ma vabbè un'altra parola altri kanji altra storia Ai Jo quindi state attenti a quando lo pronunciate potrebbero significare due cose diverse affetto Ren Hai relazione amoruza infatti quando c'è un omicidio c'è sempre Renai con la segretaria attenzione Renai Ren Hai ok relazione amoruza che lo so però lo scrivo lo stesso poi abbiamo Nikui è odiare ti odio ti odio nove ecco oggi sono pazzo scusate nove Nikui Nikui non esce si è uscito questo qua si pronuncia Niku che potrebbe essere carne e allora abbiamo Niku Nikurashi cos'è? odioso? ah non lo sapevo allora Nikumu è il verbo odiare Nikumu Nikumu odiare poi c'è Nikui e odio Nikui va che belle parole che mi insegno bellissimo è uscito nel 1983 nell'83 mamma mia io avevo dieci anni quando l'ho visto allora poi c'era avevo sei anni cio eh io ne avevo nove mi ricordo ancora che l'ultimo film che ho visto di cementano era John Louis al cinema ed era orribile mi sono addormentato preferiscevo quando faceva i film divertenti 9 nicui poi abbiamo il nikurashi questo non ho mai sentito nikurashi è odioso non lo sapevo nikurashi mai sentito mai usato in vita mia nikurashi nikurashi odioso poi abbiamo sa che vuole urlare a sa che vu dieci sa che vu sa che vu e urlare si mette solo questo sa che che non è il sa che mai sa che vu che è urlare sa che vu sa che vu urlare o scream com'è che si dice nikku nikumu è tipo questo qua lo so ma se lo vedo non mi non mi dà il senso è così poco io pensavo che allora ho visto film nuovi ai vero quelli vecchi sono tipo il bisbetico domato quella roba lì e poi mi piacevano tanto i film che faceva con chi si chiama con pozzetto lui è peggio di me quelli lì sto male se li vedo muoio muoio per terra e mi ritrovate tra 60 anni infatti li ho visti un paio su amazon che avevano messo tipo di di celentano il pozzetto ma se li mettono tutti mi fanno un favore io mi guardo quelli tutto il pomeriggio e rido da solo muoio ridendo allora poi abbiamo kirao e dislike mettete dislike non piacere dislike chi rai hanno 11 chi rai questo qua si pronuncia kira i a fare che in russia celentano sia famosissimo ma è mai per me è perché in russia non dei bei gusti gen o ken questo qua che nogen che non viene la stessa ma è ma anche per me vanno ancora guarda che adesso sembra me lo guarda se lo fanno la tele io lo guardo però non guardo la tele problema infatti riguardo su amazon prime video lì perché avevo visto che c'era e pensa che ho il film tipo di anche un film di o abbatta in tuono attila ce l'ho anche in blu ray poi ho anche mi sembra i film di paolo villaggio ce li ho in blu ray soprattutto fracchia la belva umana che il mio film preferito allora invece della serie quelle lì pierino robe varie quello che quello che mi piace di più no amici miei non mi piace quello che mi piace di più è come si chiama attila mitico attila ce l'ho e poi quello lì che mi piace di più di quelli pierino come cacchio si chiama come si chiama quello spagnolo cioè lui faceva il giocatore di calcio brasiliano alvaro no io dico dico alvaro ma non mi viene in mente mi sembra alvaro cotechino centro avanti di sfondamento con questo sto male pa 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 na na ta 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 na 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 ta 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 na 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 è il mio film preferito che all'inizio c'è la partita col napoli e lui gioca nel napoli dovrebbe essere un brasiliano c'è la parte dell'inizio è stupendo cotechino faccia e gol allora chi rao che andiamo avanti se non finisco più chi rao chi rao e anche questo è odiare comunque non piacere odiare chi rao odiare paolo alberto non era roberto paolo alberto cotechino centro avanti di sfondamento esattamente bellissimo un capolavoro e invece di tipo quegli americani mi piaceva top secret che non lo conosce nessuno quelli di tipo la pallotola spuntata però prima c'era uno che era top secret con valchilmer mi sembra che era il tipo lo che è bellissimo i agaro paolo roberto cotechino e vedi che adesso ci siamo io ho detto alvaro perché lui era alvaro vitale e la parodia esatto esatto lagaro lagaro e non piacere qualcuno che non ti qualcuno che non ti piace o qualcuno che a qualcuno che si è il numero uno qualcuno che non ti piace o odi quello lì è bellissimo lo conoscono in pochissimi col film lì top secret che li prende anche per il culo cos'era laguna blu una roba del genere c'è lui col tipo che prende al tipo lì di laguna blu gli piacevano gli uomini non gli piacevano le tipi kiraina odia la scena della vacca con gli stivali è mitica kirai top che quello era una presa in giro anche di elvis presley del film di elvis kiraina è odiato poi abbiamo kirai odio odiato dipende qua kiraina è odiato jana non ti piace jana e questo quaglia è da solo e no jana è non piaciuto e poi abbiamo kigen kigen e mood come si dice mood in in italiano o mio dio kigen gawarui avere un atteggiamento brutto cioè non un atteggiamento avere una quando ti gira di maroni come si dice umore bravo umore bravo non mi veniva la parola thank you very grazie poi abbiamo nostro che mi sa che ho scritto troppo allora oa kira ya kengen in base alla situazione allora kira u e odiare chi odio poi abbiamo jagaru jagaru però è più quello lì c'è quando vedi una persona ti dà fastidio non è proprio per te cioè nel senso sei tu verso qualcun altro kiraina e quando ho di qualcuno che sarebbe chi la cima cita do itashimaste kira 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 ok kira e qua poi jana è questo qua jia comunque anche noi volendo e poi è questo qua e kigen kigen humor ok scriviamo ste robe sono fermo alla 8 quindi devo scrivere qua devo scrivere da niku 9 niku 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 è tipo questo kanji qua lo so che è niku niku ma quando lo vedo non mi dà il senso di niku non riesco a leggerlo c'è nel senso lo conosco ma non mi viene quando quando lo vedo non riesco a collegare le due cose prima o poi lo imparerò non è vero di cui this is love that I'm feeling this is the love ni-ku-i poi abbiamo ni-ku-mu ma li ho invertiti come faccio di solito l'importante è che è giusto ni-ku-mu che è il verbo se vedete la regola è come prima ni-ku-mu è il verbo e quello invece che finisce con la i è la parola ni-ku-mu è odiare e ni-ku-ra-shi questo qua non mi ha sentito ni-ku-ra-shi è odioso come me sono odioso ni-ku-ra-shi ah no non ho scritto ni-ku vabbè lo scrivo qua sotto odioso poi abbiamo sa-che-bu è urlare sa-che-bu lo sentite tante volte sa-che-bu o sa-che-nde-cure urlate sa-che-bu sa-che-bu il cangio è anche bello sa-che-bu urlare pensavo sai che buono sai che buono do ita shimaste do ita shimaste ok do ita shimaste è giusto come si chiama è formale formalissimo 11 assomiglia un po' al nostro dialetto il giapponese si un po' si a volte si ma il problema è quando li senti parlare in dialetto che non capisci più un cazzo io praticamente ho un cliente di Osaka che ogni volta che mi vede mi parla in dialetto convinto che io so il dialetto è proprio tranquillo vai avanti tranquillo intanto non capisco niente kira ya qua scrivo solo ken perché so che diventa anche gen quando i nigori quando attaccate normalmente quando è dopo allora prendetelo sempre come la regola del 99% quando trovate il segno dopo prende il nigori in generale non è sempre così ma in generale è la regola che viene sfasata tutte le volte dai giapponesi che fanno le regole poi le cambiano quando gli girano i maroni allora e anche perché anch'io a Marco gli dico ma scusa la regola era questa eh ma qui si sta meglio così ho capito ma se mi avete spiegato una cosa perché mi cambiate le carte no 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 che segno prende dopo in che senso qua se vedi questo qua si pronuncia o ken o gen se lo trovate dopo il kanji la maggior parte delle volte vuole il nigori e quindi il ken diventa gen io qua ho scritto solo che si pronuncia ken non gen però in generale se il kanji è dopo prende il nigori in generale però dipende sempre se suona bene se hanno voglia di farlo pronunciare così o no però in generale la regola è quella Kira Kirai è ti odio no Kirau è odiare il verbo e invece Kirai e vabbè sarebbe Kirai è odio che però non me l'ha scritto Yagaru Yagaru è anche quando Marco Yagaru non è anche quando hai paura di qualcuno però forse però eh che non ti piace non ti piace Yagaru Yagaru non voglio non voglio quello lì non so non lo so non me la ricordo la no come è che Yagaru Kirenai significa non riesco a farlo sembra quella in parola ma non è quella Ah no Kirenai no è diverso no è Yari Yari Kirenai significa non riesco a finire non riesco a farlo Yagaru Kirai na è odiato o Kirai odio sarebbe Kirai na è un aggettivo comunque è un aggettivo na Kirai prima quando si potevano mettere le canzoni avevo avuto un'idea eh tipo di ma non lo so a parte le lezioni così fare non lo so una volta alla settimana fare una canzone famosa giapponese la traducevamo dal giapponese all'italiano eh però non posso più farlo eh perché per i copyright non ponono il cazzo eh prima non senti che non sento non ascolto più la musica Marco eh quindi io non posso farlo odiato eh non non ti non ti piace più che non ti piace qualcosa mettiamo non ti piace basta ok odio non ti piace odio facciamo così salute eh Marco mi vuole attaccare Matti va in garage ti ho detto a vivere figa non è Massi è Gio che ti dice salute ecco un'altra cosa eh ho capito ma il testo senza far sentire la musica è capito lo posso fare ma è capito sarebbe bello sentiamo il pezzo cantato e lo scrivo sentiamo il pezzo cantato e lo scrivo perché io non ce l'ho il testo capito non ce l'ho il testo la canzone in mano per sì ho capito però è più bello sentire la canzone e farlo ma 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 cosa esattamente ACATOMBO no ACATOMBO cos'è il tombo è la libellula rossa sì non lo conosco ACATOMBO no la canzone ma quanto è alto il mic è alto il mic oh ma figa adesso è alto poi è basso poi è alto decidetevi in che senso è alto il mic ah perché non ho abbassato aspetta oltre ballerina sono anche cantante io aspettate c'è veramente perché quando riavvio il pc mi aumenta il livello dell'audio sarà a 100 infatti a 100 linda 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 poi sono arrivato ora che posso dirti eh oh no ma il microfono a parte che gracchia perché è alto ma gracchia perché ormai sta morendo quindi adesso che c'è lo sconto potete comprarmi il microfono nuovo eh 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 scherzo Iana non ti piace Iana che notare che anche nel cangi di odiare c'è sempre il cangi di donna dentro odiare e arrabbiare perché c'è sempre il cangi di donna fatevi due domande Iana ti sento basso e adesso come mi senti basso ho bassato solo del 20% eh e Nande cosa eh perché c'è il simbolo di donna Marco ce lo spieghi perché eh no capito perché no perché le donne si arrabbiano sempre per quello eh no me lo devi dire tutto lo sto chiedendo perché siete su Toronze allora eh chi genga significa essere di cattivo umore chi genga i significa essere di buon umore chi gen chi gen umore ok oh comunque Dani abbiamo spiegato delle parole fantastiche amore odiare fidanzato fidanzata mi girano i maroni e tu non c'eri perché sei un po' su Toronzo 12 comunque cioè stavo pensando veramente di fare quella cosa lì di mettere le canzoni e tradurle o quando poi ho finito di studiare volevo fare non lo so magari prendiamo un manga e lo traduciamo così al volo magari qualche manga che non è uscito in Italia e robe varie ce lo facciamo noi però interessante non fatemi tradurre manga di merda perché non c'è tipo Roku de Nashi Blues che a me piace tantissimo tipo ieri quando sono andato a Varese stavo guardando Entai Kamen stavo io iake koyake no akatombo waretemita no wa ichi no ik eh ma non conosco la canzone e lavoro poi dalla prossima settimana si toglie due giorni lavorativi e lavoro ti tolgono o te li aggiungo scegli pure tu no quelli che ho in casa posso scegliere io poi prima poi li finisco cos'è che stavo leggendo a casa della mamma non è Taf si mi sa che era mi sa che era Taf c'è un manga che tipo è tipo Baki ma si chiama Taf che c'è il papà che è enorme tutto muscoloso con le mutande con sulle del panda e il bambino piccolino con i capelli rossi che fa arti marziali e combatte contro le tipi enormi quello è fico 12 sai spezza le ossa cose facili da imparare iu cioè adesso che iu è dire cioè mi puoi insegnare il kanji di dire dopo mille anni cioè per te questo kanji qua iu è il primo kanji che impari questo me lo scrivi adesso iu dire questo si pronuncia iu c e su wikipedia Mako la conosce di sicuro è una canzone che insegnano ai bambini o l'asilo Mako dice che è una canzone che insegnano ai bambini o l'asilo ma per non rischiare si la prax sì Mako non se la ricorda dice ma lui dice o u o iake ko iake no katombo uare te mitano wa ici ici no ica e cantala eh ma se non sappiamo come fa già la devi cantare tu eh sì canta tu siete pronti adesso ve la canta Mako vai non se la ricorda iu e dire comunque iniziamo da dire dire fare baciare lettera testamento dire comunque Dani quelli con cui hai giocato l'altro giorno ieri sono i ragazzi con cui giocavo che c'era dentro anche amante giocavamo con loro e amante in code e gli altri c'era amante che giocava con noi c'è l'aggiornamento di cold war sì peccato che non funziona quindi allora poi abbiamo kotoba che è parola kotoba che poi era vecchio come il culo queste parole dai si è andata a vederlo su internet aggiunti dai boh che non la conosco io non la conosco questa canzone ma video è rimasto ma boroshika allora che lo voglio vecchia sì adesso sì non la conosco cos'è che c'è scritto kisu bonbon kisu bonbon ah per i bambini sì mamma non posso far sentire tutta la canzone vai via vai via a catombo sta dicendo che il mio abito a mia sorella a 15 anni è andata a abitare a fuori no la si è sposata ah sì a 15 anni non mi vuole dire che quanti anni ha questa canzone è vecchia come il culo cioè ha appena detto la canzone dice che la sorella a 15 anni si è sposata quindi vedete voi di che epoca è quella canzone di mille anni fa comunque il giorno non so se c'è però che impariamo quando vai a scuola già ieri abbiamo fatto come si chiama abbiamo fatto l'epoca l'epoca di Edo abbiamo fatto sì mi sembra ieri non so no ma io conosco di più boro boro dotta dotta kutsu 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 hey 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 totte mosukina kutsu cioè sono le canzoni per i bambini che c'è il tipo con ste scarpe enormi che canta guarda che belle sono le mie scarpe tipo che sono rotte quelle sono le canzoni sai quelle che facciano andami con i pupazzi conoscerai Sakura no Sakura significa un sacco di robe io conosco solo quella di Pollon 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 combina guai metto Sanremo come categoria vai Sakura vai vai sì si canta ma non sei una canzone giapponese Marco figa ma non ti ho detto di cercarla ti ho detto di cantarla sono tutti bravi allora i tori goto è parlare da solo questo è quello che fa sempre mia moglie no quella che canta la divinità cicciona con il ventaglio i tori goto i tori goto monologo ah no l'ho scritto in giapponese no non lo conosco io troppo lo sai che youtube ti romperà le balls Marco non alzare tanto perché youtube mi rompe le balle abbassa Marco abbassa la canzone tu sì ma la canzone no tu puoi cantarla ma la canzone non si resta Kengo e linguaggio Genko scusate Genko no io sono più per Doraemon com'è che faceva la canzone di Doraemon Marco non mi ricordo non mi esce com'è che esce la canzone di Doraemon com'era la canzone di Doraemon la cantavamo insieme adesso non mi ricordo più eh Doraemon no non era quella era vabbè non me la ricordo più comunque Genko ma perché non mi esce Genko ah che perché è Gengo Gengo ecco perché non mi esce Gengo è linguaggio Gengo scusa amici Gengo io ho sempre detto Genko ho sempre detto Genko ho sempre sbagliato linguaggio vedi ho imparato una parola no oggi ho detto Ogen Ogen è dialetto questo lo so Ogen Ogen che è il dialetto allora se andate verso Yamanashi basta che aggiungete sempre scia alla fine della parola c'era Giulio Russo che cantava e vicino alla rica e come genere eh non lo conosco dialetto in se andate a casa di Marco basta che aggiungete scia a qualsiasi parola e dialetto Dengon e messaggio Dengon messaggio Dengon messaggio il frigo bar il frigo bar allora I a questo si pronuncia I Koto Gen o Gon allora Yuu è dire poi abbiamo Kotoba che è parola poi Tori Goto è parli da solo come un cretino Tori Goto poi abbiamo Gengo che sarebbe parlare e questo è quello di lingua insieme fanno linguaggio questo io ho sempre detto Genko è sempre sbagliato il frigo è vivo Marco ha ucciso pure il frigo no ho dovuto comprare la parte che ha rotto 30 euro Genko e infatti gli ho detto adesso che ci sono gli sconti su come se è il Prime Day comprami l'hard disk che devo mettere nella play che costa 150 euro è quello della come si chiama della Cyber qualcosa PCI S4 1 tera però io lo volevo da 2 tera quello da 2 tera costa 350 e non c'è lo sconto se c'era lo sconto lo compro invece non c'è e quindi suca allora niente ho scritto non ho scritto un cazzo 12 U I 8 la prossima volta faremo un tot di canzoni le cantiamo io e Marco le traduciamo devi comprare una PSG con i recipienti di cibo all'interno sì ma io la prima cosa che faccio quando prendo la play 5 gli tolgo i pannelli perché mi fanno cagare mi fa cagare Bianca la lascio nera senza i pannelli così è anche più facile da pulire già per allora IU vabbè IU lo so è vecchio come il QQ è dire cotoba è parola che è dire più non lo so quell'altro no l'altro Mako ba è foglia no ba di cotoba è foglia appa quindi parlare foglia diventa parola in che modo non lo so così cotoba parola poi abbiamo i tori goto questo kanji qua è quello di docshin che è single si inca a parlare da solo tori goto sinceramente non capisco il motivo di quei due muri quali muri ah quei pannelli l'interno da un terabyte costa 111 euro oggi no devi prendere no gio devi prendere quello da devi prendere il pc express 4 perché se no non va abbastanza veloce devi prendere quello più economico che ho trovato della cyber true lì come cazzo si chiama è 150 o quello quello della crucial ma costa di più però ricordatevi che deve essere pc express 4 non il 3 perché se no il 3 ma leggi a 3.500 il 4 leggi a 5.000 ho capito se prendete l'altro non va bene per il tori goto parlare da solo poi abbiamo genko gengo questo me lo scrivo perché non lo so gengo nel senso ho sempre pronunciato di merda questo qua è il secondo kanji questo è quel famoso go italia go lingua italiana gengo ma la live di ieri è rimasta la live di ieri è rimasta se vuoi vederla e veste i miei che volavano alla fine si si che è rimasta tanto tra 30 giorni scompare a meno che nessuno mi denunci gengo linguaggio ah tra parentesi oggi ho scritto youtube mandandogli il sito di quello lì che mette solo tipe con le tette di fuori dicendogli vedo che voi mi cancellate le immagini a me di one piece però questo qua che mette le tipe nude in spiaggia va bene la regola è uguale per tutti vedo in più in più me li consigliate anche come video quindi vedete voi pace di murder ogen dialetto ogen rispettare la legge va bene però visto che già ti hanno tolto altre immagini sì ma ogni giorno mi tolgono una o due immagini di youtube e sempre quelle di one piece motivo perché sono contro le leggi capito come se fossero porno invece le tipe nude in spiaggia va bene mi danno un nervoso già non li guarda più nessuno i miei video non li fai vedere in più vengo anche mazziato dimmi subito dimmi di chiudere chiudimi il canale giochi di one piece o fairy tale cosa consigli one piece fairy tale allora io che non ho mai visto l'anime a me è piaciuto perché non avevo visto l'anime però praticamente parli parlano mezz'ora e giochi un minuto la media è quella però io non avendo visto l'anime l'ho guardato e tanto non ho visto l'anime così me lo sono spoilerato tutto praticamente però ti consiglio one piece più bello Dengon anche se l'ultimo è bello come l'hanno fatto ma è troppo facile cioè arrivi subito a livello massimo infatti dopo un'ora avevo già i personaggi già a livello massimo cioè non tutti per potenziare un personaggio ci metti un'ora Dengon è messaggio messaggio ok facciamo gli esercizi che qua ridi scherza scherza e ridi passa il tempo warrior 4 sì beh quelli di comunque tutti quelli di one piece sono belli anche quelli lì che hanno fatto tipo rpg quelli quelli che c'è il mondo aperto a me sono piaciuti magari prendi uno vecchio infatti io anche adesso mano a mano me li recupero su pc che compro vecchi quando fanno le offerte allora basta comprare giochi nuovi di 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 no al prezzo alto di di sì a valsoia allora dove cacchio è qua no lì qua ok adesso switcho ditevi se mi sentite perché ho switchato qua adesso facciamo gli esercizi allora kodomonegao omirutoshi awasenakimo cininaru se vedo se vedo il bambino che sorride ok grazie se vedo il bambino che sorride mi sento felice mi scusi potrebbe dare un messaggio al signor tanaka esatto tanto se non c'hai giocato è nuovo anche se lo compri tra vent'anni tipo io che non ho mai giocato i giochi della play 4 adesso escono sulla play 5 sono migliorati ci gioco anche col gioco migliorato kyoa questo qua non me lo ricordo caccio questo qua è caccio no kigenga warukat oggi l'umore del capo oggi il capo era di brutto umore sarebbe kigen questo qua kowaiume omite okinako edessa kende shimato ho visto ho avuto un sogno brutto e ho urlato sì ho urlato a grande voce come io che ho sentito mia mamma che mi diceva della notte fai schifo fai schifo poi itono questo qua è kum 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 nikui nikunde bakkarito tsuraku naru se se odi solo le persone se odi tante persone se odi e basta sarebbe se odi le persone e basta è diventa pesante come l'attacco mamma mia te l'ho fatto vedere ho fatto un tiro della tigre volato in porta anche il tipo che mi ha parato la palla cioè si è messo in mezzo tra il portiere e me uno che ha parato la palla e volato dentro la porta anche lui Watashimo Ayaku dovrebbe essere coibito Gaoshina anch'io vorrei subito un amante, un amoroso coibito è questo attenzione che questo è quello di Enshin amore Kodomo Ikari Okori Okori Sugiru no Wa Yokunai Okori non va bene che ti arrabbi troppo con i bambini ma Seba è morto sta lavorando Kakujino Shigoto Dovrebbe essere Genjo 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 Okokuste Kodasai Genjo era questo qua Allora devi devi riferire lo stato attuale del lavoro Kakujino Kakujino Cos'era Ognuno Individuamente Voglia non si è fatto sentire neanche ieri No ieri Quando è passato? Ieri o l'altro ieri Seba mi sembra Come? Mentre guardo la televisione parlo da solo Parlo spesso da solo Complimenti Poi è Se hai qualche preoccupazione Chiedi pure a me Che ti manda a fare Una mia Mensezude All'intervista O al colloquio di lavoro Dipende Sai chi no? Peccato volevo Salutarlo Kenko Che è esatto Kenko 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 Allora All'intervista Mi ha chiesto In base alla mia situazione Di salute Sei Ma è alla Lavora Esatto È al lavoro Watashi No Chichi Wa Kazokuni Watashi no Chichi wa Kazokuni Aijo Aijo Questo qua non è Mijikai Cos'è? No non me lo ricordo Bukai Bukaito Questo non lo so Bukaito Lo devo cercare dopo Comunque è Aijo Reinae è amore Quindi vedi no? Questo qua è Tsume Ga Tsume ga Kamigarasuni Atatte Kizuto Yana Oto Gashita Le unghie Hanno colpito Il vetro E hanno fatto Un rumore Fastidioso Sekai no No Questo dovrebbe essere Il linguaggio Del mondo Quindi era Genco Gengo Speng Non ha cadè Spengo To Portogaro Go Wa Curabe Curabe Tecine Niteru No Ikaku Tecine Curabe Tecine Vabbè Comunque Questa qua Me lo segno Nel Linguaggio Nel mondo Lo spagnolo Il portoghese Sono simili Ce lo dici tu Ah no è finito Ah no Qua in fondo C'è una parola Qua un vuoto Non so perché Ah non lo vedete Qua c'è un vuoto Non so si sa per quale motivo Sembrava finito Ma c'è un vuoto In mezzo Non dimenticate di scrivere Che con Shikino Shotaijo Gatto Doita Mi è arrivato l'invito Del matrimonio La cerimonia di matrimonio Stavo leggendo Sotto E non vedevate nulla Ok Adesso ve le scrivo anche a voi Così le vediamo tutte bene insieme Allora One Che significa Uno Se non lo sapete Uno Codomo Codomo è bambino E questo invece è motorino Codomo no è gao Ma vai via Maledetto Cioè se Se acceleravo così Io ero già in fondo alla via Tu sei sempre qua sotto la mia finestra Faccia di merda Niente Non ce la fa E in più mi entra tutto l'odore di gasolio In Bluff In mochi Ni naru Niente Ancora E vabbè Insiste Sumimasen Sumimasen Me lo scusi Tanaka san Tanaka san Ni Dengo Non Se guardo il sorriso di un bambino divento di buon umore divento felice sarebbe sumimasenga me lo scusi tanaka san ni dengo no negai ishimase dica il messaggio al signor Tanaka 3 kyo no kyo wa kyo oggi kyo wa oggi kaicio kacho kacho cavallo kacho kacho no kigen il capo è incazzato nero kigen perché non mi esce il koso kigen gawa rukata oggi il capo è di brutto amore 4 avrà comprato una lavatrice kowai kowai yume ho visto un sogno brutto 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 omite ho visto un sogno brutto okina koe okina koe okina koe okina koe con una voce alta sakende shimata sakende shimata e urlato fuori allora ho avuto ho avuto waru yume ho avuto un incubo sarebbe ho avuto un incubo e ho urlato ad alta voce 5 ito 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 uo nikunde nikunde bakkari se odi solo le persone bakkari bakkari ilto se odi le persone basta tsurakunaru diventerà difficile tsurakunaru yō bakkari allora le parole sono egao che è smile poi abbiamo dengon che è messaggio poi abbiamo kigen che è umore poi abbiamo sakébu che è urlare qua diventa sakende perché la forma cambia qua invece abbiamo nikunde che è nikumu ok le so tutte toku toku homo i da senaku allora uno kodomo no egao ho perso la penna kodomo no egao uno kodomo questo è l'altro modo per scrivere kodomo voi avete imparato solo la prima parte kodomo no egao il sorriso del bambino egao poi magari è un po' più lungo egao omo i da senaku omiru to e guardo il bambino sorridere divento felice come una frittella shi ava se shi ava se narate o tatako shi ava se narate o tatako e che cosa ha contato vediamo se sapete il giapponese allora kimochi non lo sa nessuno tristezza ninaru ma basta questo qua è quello delle foglie non è un motorino allora poi due sumi masenga me lo scusi non stavo seguendo te la ricantiamo perché vedo che sei distratto shi ava se narate o tatako shi ava se narate o tatako che canzone è? vediamo se sai il giapponese o no sumi masen come boh vabbè che tristezza che infanzia triste che hai avuto ga tanaka te la canto in italiano vediamo se ti aiuta se sei felice tu lo sai batti le mani è la stessa canzone cantata in giapponese shi ava se narate o tatako e tu dirai quella è venuta prima quella italiana o quella giapponese? eh bella scopri dengon dengon sapevi? no? adesso lo so onegai shimasu onegai shimasu allora sumi masen tanaka sani dengon onegai shimasu me lo scusi dia il mio messaggio al signor tanaka trecchio oggi io qua caccio caccio scusate caccio cavallo caccio caccio no kigen kigen ga warukata oggi il capo era arrabbiato di brutto 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 warukata oggi di warui cattivo warukata oggi il capo era di brutto amore quattro kouai yume kouai yume ho avuto un incubus kouai yume 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 è sogno kouai è brutto cioè orribile paventoso quindi è incubo uomite ho avuto un incubo e ho urlato ad alta voce okina koe okina è grande koe voce sakenda è urlato sakenda è urlato sakenda è scimatta urlato come un pazzo 5 ito nikunde ito uo nikunde odiare la gente odiare soltanto la gente è pesante è difficile è stancante non de bakkari 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 hiruto hiruto se odi soltanto le persone poi diventa pesante difficile tsurakunaru tsurai tsurakunaru nakunaryon poi esercizio dos watashimo ayaku coibito koishina anch'io vorrei avere subito un amante o una persona da amare o un fidanzato come lo vuol dire uno watashimo anche io watashimo ayaku subito adesso questo momento ayaku coibito coibito ga oshi oshi è volere oshi na anch'io vorrei avere subito un fidanzato un amante o una fidanzata come volete voi kodomo kodomo bambino wo okori okori sugiruto se ti arrabbi troppo col bambino sugiruto no sugiru no wa yokunai non ti devi arrabbiare troppo con i bambini perché questo qua era kaku kaku jitsu no non me lo ricordo più questo qua me lo devo segnare kaku jitsu questo me lo deve segnare perché è quello individuale ma non mi ricordo come si pronuncia io dico sempre kaku jitsu è sbagliato kaku jitsu che l'avevo letto male anche prima no me lo segno così mi ricordo qualcosa no shigoto lavoro no gen jo situazione attuale del lavoro wo okoku okoku che è fare la spia steku dasaku allora dimmi riferisci la situazione attuale la situazione attuale del lavoro individuale kaku jitsu lo cerco perché è individuale cosa significa che è individuale toku toku omoy each oneself da solo quindi del lavoro che hai fatto da solo allora telebi o minagara mentre guardo la televisione telebi o minagara mentre guardo la tv sarebbe yoku spesso itori goto itori goto parlo da solo mentre guardo la tv questa è mia sorella itori goto invece mia mamma gli cambia il programma non si accorge neanche che gli hai cambiato itori goto wo iteshimao quando guardo la televisione parlo da solo bene cinque nayami nayami attara sei sei preoccupazioni vieni da me fratello attara itzudemo itzudemo è sempre per sempre quando vuoi sarà itzudemo sodan sodan stekudasai ok se hai qualche problema chiedi a me appartemente allora la risposta è sono coibito coibito io innamorato poi okuri arrabbiarsi jothai è situation la situazione poi abbiamo i tori goto è che parlare da solo e poi abbiamo nayami che è preoccupazioni tu chiamale se vuoi preoccupazioni allora avanzi scriviamo watashimo aspetta che mi faccio una foto di kakuji che così quando sono sul cesso passo poi non è vero sto sul cesso tre secondi però nel momento che non so cosa fare ripasso i kanji e non mi ricordo quando li vedo che poi ogni volta i kanji facili non me li ricordo quelli difficili sì sto andando al contrario ognuno allora watashimo ayaku anch'io vorrei mako watashimo ayaku kajishishimaru rayon maru ni nihon no eiwa o mamoru tame hankoku magino yatsukero imada imakoso enshinda ascire lion tobe tobe lion yukuzo kai ketsu lion maru maru per gli amici lion maru o super lion 3 kakuji kakuji me lo scrivo perché ogni volta io lo pronuncio kakujitsu perché sono stronzo kakuji che so che non è kakujitsu però mi viene così no shigoto ognuno figoto è il lavoro non c'è più shigoto no jotai no gengio scusate gengio è situazione attuale gengio uo okoku è fare la spia non sei figlio di maria okoku okoku te kudasai shite 4 telebi è la televisione telebi uo minagara mentre guardo la tv minagara mentre guardo la tv yoku spesso itori goto uo iu no itteimasu mentre guardo la tv parlo spesso da solo itte shimasu chinkwas nayami se hai problemi se hai qualcosa che ti preoccupa vieni vieni che ti do un bel consiglione io attara itzu de mo sempre itzu de mo doko de mo so dan se vuoi ti do un bel consiglione so dan so dan so dan ste ku da zai se hai qualche problema chiedi pure a me quando vuoi allora poi mensetsu mensetsu è colloquio mensetsu allora uno salviamo per sicurezza mensetsu de mo mensetsu de mo al colloquio saikin ultimamente kenko kenko e salute kenko jotae la situazione di salute jotae uo kikareta kikareta mi hanno chiesto al colloquio di lavoro all'intervista la situazione di salute ultimamente sarebbe la la situazione della salute watashi no chichi wa watashi no perché watashi no chichi non può dire chichi e bada vabbè comunque di solito chichi è mio papà già da solo perché non capisco perché c'è kazoku kazoku che è famiglia tuo padre no no watashi no chichi è mio papà però normalmente se tu scrivi chichi e basta è già mio papà non c'è bisogno che metti watashi no è strano che c'è scritto watashi no chichi di solito chichi è mio papà non c'è bisogno che dico mio papà non c'è bisogno che dico il mio papà basta che scrivi chichi significa già mio papà quello che è strano kazoku akuni haijo haijo è amore haijou haijo è questo qua non lo sapevo bu haijo guarda che devo cercare la parola perché se non lo sbaglio bukaito questo qua lo devo cercare bukaito quello lo devo cercare non lo so coppia bukaito profondamente intensamente il mio papà ama profondamente la famiglia desta desta che significa che non c'è più il mio papà non va tanto amava profondamente la famiglia bukai a meno che non abbia un altro sindicato comunque dovrebbe essere perché l'altro è renhai che sarebbe relazioni amorose con la famiglia non si può scrivere neanche perché non si può dire neanche cose direi che la risposta non è quella tre zume zume unghie zume e poi cioè tuo papà sarebbe allora praticamente cici scritto così e papà è mio papà è mio papà invece tuo papà si dice otosan per quello è strano che qua scrive mio papà con scritto watashi no cici cici è già mio papà da solo it's so strange però è significato quello zume ga è mado mado è vetro mado garasu mado garasu è vetro cioè vetro di finestra di vetro garasu mi atate atate ho sbattuto le unghie contro il vetro e ha fatto ghi ghi un rumore fastidioso yana o to ga shita to ga shita allora le unghie hanno battuto contro la finestra di vetro e hanno fatto un rumore fastidioso tipo ghi 8 abbiamo 4 sekai sekai e muendo sekai sekai no vengo vengo nel linguaggio del mondo non ha nel linguaggio del mondo non ha cani nel mezzo del linguaggio non ha cadè scusate spain su pain spain qui in spagna spain go lo spagnolo to poru poru to garu go lo spagnolo il portoghese qua questo qua io lo dico curabe perché il canji è quello di curaberu ma si pronuncia in un altro modo ikakutechi questo me lo scrivo ikaku questo qua è curaberu ikakutechi niteru è assomigliare niteru niteru praticamente questa è una parola che me la techi vabbè è come velocemente eccetera eccetera trovate questo qua è quel mente sarebbe ma questo qua ikaku non me lo ricordo che si pronunciava così me lo segno poi devo fare la foto anche di quello lì ikakutechi questo qua non mi ricordo proprio il significato cioè il significato la pronuncia comparare esatto allora nel linguaggio del mondo si assomigliano molto se fai la pronuncia tra spagnolo e portoghese allora l'ultima è cinque che consichi che che è cerimonia di matrimonio no sciotai che è invito gatto do ita è arrivato to do ita allora è arrivato l'invito per la cerimonia di matrimonio è la risposta di quei due lì dove cacchi hanno già non me lo ricordo più fu bucaito bucai bucai o bucai la gomma zona profonda non ne provo bene si guidatevi mai di quello che vi dice google per la maggior parte cioè maggior parte delle volte no però ha una 20% di probabilità di dirvi una stronzata questo è relativamente ok kakutechina allora riscriviamo tutto e poi controlliamo e poi vediamo se è fatto giusto o meno allora mensetsude all'intervista o al colloquio di lavoro dipende dalla situation mensetsu men mensetsu saikin ultimamente no kenko kenko a salute enko jyotai jyotai uochi caretà mi hanno chiesto della situazione di salute di ultimamente all'intervista non so come dirlo in italiano poi ci siamo capiti watashi no cici mako perché watashi no cici e non cici e basta eh ma cici non è già mio padre padre eh ma cici padre padre sì ma mio papà è già cici eh ma no cici di te non è perché il cici di te è otossan per me cici è mio papà otossan è tuo papà non mi hai convinto non mi hai convinto eh mako il libro dice così tu dici no non è vero mi devi dare una spiegazione mi devi dare una spiegazione come si dice ikakutekin allora eh kazoku comunque il libro ogni volta ti spiega una cosa e poi c'è sempre l'eccezione maledetta cioè il 99% è così ma poi i giapponesi devono cambiare tutto allora Aijo penso che sia Aijo la risposta qua perché l'altra dovrebbe essere ha una relazione amorosa con i familiari che è un po' non si può eh bucai la gomma bucai ito bucai mi viene neanche in mente profondamente però non la conoscevo ad esta però proprio non l'ho mai usata eh tre Tzume Tzume si Tzume ga Mado Mado Garasu è sconsigliabile avere relazioni amorose con i familiari esatto per quello la risposta giusta è l'altra Garasu Ni sono andato per esclusione di colpi patatte Ghi no tosta no questo è Kiyogi chi no proprio chi lui ha grattato le unghie sopra il vetro ha battuto le unghie sopra il vetro ha fatto un rumore fastidioso tipo iiii del fastidio io so Yana Oto Oto il rumore Gasta invece Mako fa i Tori Gotoi ma sta parlando da sola quattro Sekai Sekai che è Mundo il Mundo Sekai Sekai no Gengo qua dovrebbe essere nel linguaggio del mondo o no l'altro è yoga no l'altro è però aspetta qua l'altro dice il dialetto il dialetto del mondo no non è il dialetto dovrebbe essere Gengo il linguaggio Gengo l'altro dice dialetto però mi sembra strano e sarà giusto l'altra perché è sempre così NACADE dentro il linguaggio del mondo lo spagnolo SUPEIN SUPEIN GO toporutogaru toporutogaru toporutogarugo wa ikakuteki che per me quello lì è sempre curabero che tanto è giusto lo stesso ikakuteki se li metti a confronto sono relativamente uguali ikaku questo qua ogni volta me lo scrivo tanto me lo scriverò anche la prossima volta con l'incontro teki vi ricordo che sempre mentalmente e qui sarebbe il mente niteru è assomigliarsi niteru 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 assomigliano relativamente ok allora poi cinque e ultima frase che konshiki no shotai jo gatto do ita è arrivato l'invito per la cerimonia di matrimonio a cui non verrò perché ho già speso abbastanza soldi tra parentesi il battesimo altri soldi che sono volati via molto bene sto spendendo più per gli altri che per me cioè per me non ho speso niente per gli altri sto spendendo tutti i soldi che non ho tra parentesi shotai io dico basta avere familiari amici che chiedono solo i vostri soldi shotai jo biglietto d'invito dai jo ga to do ita ok andiamo a vedere se ho fatto giusto o meno e poi ci si salutazza this is love that I feel this is the love la prossima lezione sarà sulla religione figa siamo a posto proprio guarda religione ma alla fine la festa come è andata è finita che ho pagato 200 euro e mia mamma mi ha detto fai schifo mi ha visto la mamma con la barba e mi ha detto fai schifo fai schifo cinque volte me l'ha detto infatti oggi gli ho detto non ti vengo più a trovare visto che faccio schifo allora in più ho speso 200 euro cioè regali così altra metà playstation è volata fuori dalla fine con i 200 euro potevo prendere l'SSD da mettere nella play 5 nel computer meglio ancora che nella play 5 però va prima di salutarci dammi un titolo di one piace poco pensare e tanto schiacciare vecchio così spendo poco prendi prendi il 3 prendi kaizoku musso 3 che è il più bello che è il più bello cioè sarebbe Pirate Warriors 3 che non costa tanto ed è fico no no per il frigo ho speso 30 euro 40 euro ho preso solo il pezzo che è rotto e basta comunque se vuoi vederlo prima di giocare c'è sul mio canale c'è proprio la lista di tutti i giochi di One Piece clicchi sopra il 3 lo guardi così vedi se ti piacciono è tipo quello tu contro mille nemici e puoi scambiare i due personaggi e duecento per cosa? è il regalo al battesimo gli ho regalato i soldi così si compra quello che vuole quello giapponese non so quello italiano non sbaglio che ogni volta mi vai sul canale è sbagliato pensate che devo correggere allora qua ci abbiamo ripasso dei kanji dall'N3 all'N5 anche questa cosa qua poi li dobbiamo guardare eh 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 Tsukisan bene bene queste robe mi piacciono il ripassone poi c'è la fine tranquillo lo sbaglio di sicuro anche stasera esatto tanto lo sbaglio te l'ho detto oh sore 3-3 allora 3-3 abbiamo Jotai come vedete benissimo qua c'è scritto Jotai Aijo come vedete scritto qui poi abbiamo Yana come c'è scritto qui Gengo che c'è scritto ma non l'ho evidenziato perché sono stronzo e poi l'ultimo è Jotai Jotai Scusate che è qua quindi gli esercizi direi che sono giusti domani facciamo la lezione vi ricordo la sera che c'è la lezione per i principianti se volete partecipare a me fa piacere verso 8 e mezza 9 il tempo di mangiare più 9 che 8 e mezza aspetta poi domani invece che cacchio facciamo abbiamo fatto Shigoto 1 Shigoto 2 facciamo oh mio Dio Norioku abilità e reputazione che ruttura di palle questo vabbè vogliamo fare questa roba qua noia domani noia 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 ok e niente ci vediamo bampresto buon appetitone a tutti e vediamo se c'è qualcuno non c'è nessuno a cui posso mandare no non vedo nessuno vi mando niente vi mando a fanculo e basta grazie ancora a tutti grazie Gio grazie Massi e Dani e ci vediamo bampresto come dicono a Bandai un bacione a tutti e non fate i bravi fate come me lol grazie grazie a voi bye bye floppy